Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, una zona bellissima, la rampa Leonardo da Vinci, la faccio al mare. Una zona incantevole, baciata dal sole, baciata dal mare, ma schiaffeggiata dalla incuria amministrativa. Questa zona, tutta questa discesa, la rampa Leonardo da Vinci, si trova in uno stato di assoluta decozione. Erbaccia, sacchetti di spazzatura abbandonati, insomma una porcheria vera e propria. Io mi domando, ma l'amministrazione comunale di Taranto non ha una sua organizzazione nel programmare i vari interventi di pulizia, i vari interventi finalizzati a dare un minimo di decoro urbano? È così difficile segnare una data e a distanza di due mesi, due mesi e mezzo andare a pulire di nuovo? Perché ogni volta dobbiamo intervenire noi e ogni volta puntualmente dobbiamo dire è sporca questa zona, è sporca quest'altra, puntualmente arriviamo con le telecamere e l'amministrazione interviene. Non mi sembra una cosa corretta. Per il cittadino che paga le tasse, per il cittadino a cui si chiede il voto anche, non dimentichiamocelo perché poi le promesse sono belle, sia per le politiche imminenti e sia con riferimento alle scorse amministrative. Io dico intervenite, cosa ci vuole? Mandate una squadra, ora non so l'AMIU o le squadre preposte all'igiene urbana e quant'altro. E non mi venite a dire che questa zona è demaniale, perché ammesso che lo sia, scusate, quando vi fa comodo è demaniale, quando non vi fa comodo appunto non lo è, è perché qui voi avete i parcheggi a pagamento. E allora come incamerate soldi dai parcheggi a pagamento? Così impegnatevi a pulirla. Questa è la logica, questo è il ragionamento. Insomma non è possibile che vogliamo parlare di turismo e ci troviamo in questa situazione di decozione, in questo schifo. Immaginate il turista, immaginate. Immaginate i militari che frequentano il circolo o la foresteria. La persona che si fa due passi per guadagnare l'accesso, chiamiamolo così, per guadagnarsi lo splendore dell'affaccio al mare, deve camminare nella selva dei rifiuti e dell'erbaccia. Non vi stiamo chiedendo l'occupazione, non vi stiamo chiedendo chissà quale ambientalizzazione, ma togliere un po' di schifezza è così difficile. E' così difficile? Queste cose, signori amministratori, nelle città normali, perché Taranto non è una città normale purtroppo, queste cose si occupa il consigliere di quartiere, almeno chiamiamoli, ora non ci sono più, ma comunque i delegati di zona. Neanche questo, povera Taranto, povera Taranto, povera Taranto, altro che turismo. Grazie a tutti.